accadono cose sempre più bizzarre con pavone nel gruppo i nemici del destino io sto provando a spiegare quali sono i problemi dell'assunzione di certe nozioni come quella di errore categoriale mostrando che essa non è scevra da assunzioni metafisiche notevoli problematiche e pavone sembra continuare a riproporre sempre la medesima contestazione secondo la quale gli argomenti che io propongo non sarebbero argomenti in quanto non rispetterebbero le condizioni logiche analitiche e le nozioni in gioco che io starei mettendo parzialmente in discussione mostrando che non è evidente non è certo che siano nozioni sempre valide che dipende dipende da questioni metafisiche ontologiche che precedono queste stesse nozioni questi miei rilievi quindi sono contestati da pavone ritenuti non argomenti e non validi perché non rispettano secondo lui quelle nozioni il problema è che quello che sto provando a spiegare è che è il contrario cioè sono le obiezioni di pavone che commettono un'operazione non valida perché si avvalgono di quelle nozioni presupponendone la validità sempre e comunque anche rispetto a quello che sto indicando lui vorrebbe praticamente far prevalere il fondamento del suo discorso su quello che sto proponendo senza però dimostrare che il fondamento del suo discorso sia effettivamente qualcosa di certo che lui implicitamente mostra di trattare come certo come qualcosa di apodittico di incontrovertibile di evidente credo che quindi a questo punto si capisca la confusione che si è generata ma soprattutto l'equivoco in cui risiede pavone ma in cui risiedono anche altri studiosi di filosofia analitica e di logica che non colgono questo che sto provando a spiegare cioè loro presuppongono che le loro obiezioni siano valide a quello che sto dicendo che gli argomenti che io sto proponendo in cui metto in discussione l'utilizzo di certe nozioni fino a che non se ne dimostra la loro indipendenza da aspetti metafisici oppure non si dimostra che le condizioni metafisiche che essi richiedono siano sempre tali da rendere valido quel tipo di nozione ecco dicevo fin tanto che la loro contestazione a quello che dico si limita a ritenere che quello che dico è insensato perché non rispetta determinate nozioni risulterà sempre che è la loro obiezione una petizione di principio perché è affetto da petizione di principio il ragionamento sotteso dalla loro forma di obiezione faccio un esempio allora se io sostengo che il nulla diventa essente è un'espressione sensata fino a prova contraria o quantomeno che si deve sospendere il giudizio sulla sua sensatezza fin tanto che non si dimostra che non è insensata o fin tanto che non si mostra che è sensata cosa che io sostengo è sicuramente una petizione di principio presupporre che quello enunciato non sia sensato solo perché non si conforma a certe nozioni che vengono nell'ambito della logica formale perché perché un errore categoriale può essere una nozione sempre valida solo se per qualunque caso caso in cui si applica quel caso è conforme al principio di non contraddizione e io ho spiegato che ci sono concezioni che ho menzionato ma ve ne possono essere anche altre ancora più radicali non contemplate eventualmente non non menzionate da nessuna parte perché non è che le implicazioni di un discorso valgano solo se qualcuno le ha espresse le implicazioni sono tale a prescindere se qualcuno le esprime o meno quindi vi potrebbero essere concezioni più radicali dello stesso trivialismo per la forma in cui assume nel discorso filosofico che porti a una contraddittorietà talmente assurda di ogni aspetto dell'esistenza da rendere impossibile la stessa contraddittorietà il che è un'assurdità all'ennesima potenza però e menziono questo aspetto per far comprendere che a prescindere da cosa dica ad esempio il dialeteismo da cosa dica il trivialismo ortodosso o le diverse forme di trivialismo che vi possono essere come le diverse forme di dialeteismo non vi è al di fuori delle tesi di severino della struttura originale che lui ha illustrato la possibilità di escludere che l'intera realtà non sia tutta contraddittoria o che non sia contraddittoria solo in qualche aspetto o che non possa diventare contraddittoria totalmente o in qualche suo aspetto e qui apro e chiudo una parentesi anche l'evidenza fenomenologica è un aspetto della realtà e niente esclude al di fuori delle tesi severiniane che anche l'evidenza fenomenologica non possa essere identica alla sua negazione e quindi tale per cui a noi può possa apparirci qualcosa come se fosse a ma in realtà è b è certo che ciò creerebbe problemi e contraddizioni però non si può escludere questa possibilità al di fuori delle tesi di severino solo perché appare contraddittoria perché altrimenti si starebbe realizzando una petizione di principio presupponendo che le contraddizioni non sono possibili e io sono il primo a dire che non sono possibili ma lo dico sulla base del fondamento di severino quindi la mia posizione logicamente coerente inattaccabile corretta è incoerente è affetta da contraddizione da petizione di principio dalla petizione di principio e da una contraddizione che severino ha spiegato ma che adesso non è il caso che io qui riprenda magari faccio solo un brevissimo accenno quella al di fuori delle tesi severiniane che esclude la contraddittorietà della realtà o parziale o totale solo perché si esclude che le cose possano essere contraddittorie e quindi si esclude si afferma che ciò che è contraddittorio è qualcosa di falso da escludere come ipotesi ecco l'esclusione del contraddittorio ritenuto falso come evento situazione falsa è un errore logico è un non seguito fin tanto che non si dimostra che la premessa che sta alla base di tale operazione non è giusta non è vera è vero che non è possibile che ci siano contraddizioni vere lo si deve dimostrare perché non è evidente di per sé e ciò che non è evidente richiede quindi una prova una dimostrazione o che sia diretta o che sia indiretta ma deve esservi se no è una petizione di principio ora dicevo che il nulla diventi essere sia un enunciato insensato può valere nel caso si volesse invocare per esso di realizzare una sorta di errore categoriale o di essere malformato solo assumendo che la la realtà non sia contraddittoria però vorrei introdurre un caso diciamo che sicuramente può essere più pertinente un esempio che ho proposto in un video precedente il numero 2 ha fame oppure il numero 2 non lo so ha una proprietà che non si addice ai numeri che non può inerire ai numeri ecco che il numero 2 abbia fame è possibile escluderlo solo assumendo che la realtà del numero 2 e di ciò che lo riguarda sia incontraddittoria cioè conforme al principio di non contraddizione io dico alla struttura determinata dell'opposizione rilevata da severino che è il fondamento del principio perché è solo se innanzitutto il numero è un ente matematico differente da un essere vivente e quindi per il numero e per ciò che è altro dal numero vale la struttura determinata dell'opposizione si può escludere via la possibilità di escludere che al numero ineriscano predicati che convengono ad altri essenti come gli esseri viventi altrimenti no se mancasse questo a nulla servirebbe invocare la nozione di errore categoriale perché la realtà avrebbe un primato sulle nozioni in gioco perché dipenderebbe dalla natura ontologica della realtà e dei suoi rapporti quale predicato un soggetto possa avere e a me sembra proprio che pavone ed altri studiosi di filosofia analitica ragionino qui al contrario presupponendo che la realtà debba adeguarsi a queste nozioni logiche peraltro da loro che intese come sembra come nozioni o appartenenti a una logica intesa come dimensione astratta o come costrutto umano entrambe posizioni problematiche se la logica fosse un costrutto umano e quindi si si pensasse a una rappresentazione o comune del mondo dove via un mondo esterno via un soggetto io empirico che si rappresenta il mondo lo percepisce e quindi crea dei modelli rappresentativi del mondo crea la logica per ragionare per riflettere per capire le cose beh allora in tal caso in tal caso veramente sarebbe problematico porre la logica come un parametro come un qualcosa di normativo che decreta come le cose debbano stare perché la logica sarebbe in questa prospettiva frutto dell'evoluzione dell'essere umano che avrebbe quindi prodotto in sé un modello una struttura mentale per rappresentarsi il mondo che per quanto possa aver funzionato per l'uomo per la sua sopravvivenza e per il suo sviluppo nei millenni non è detto che sia anche ciò che è capace di capire la natura metafisica e ontologica delle cose ed è ciò che bisognerebbe invece capire e comprendere per determinare se effettivamente un numero possa o non possa avere quel tipo di predicati se l'unico motivo per cui si crede che un numero non possa avere fame non è per perché si rinvengono delle necessità ontologiche valide sempre ma perché finora a livello empirico non è stato osservato niente del genere è una motivazione insufficiente perché si riferisce diciamo a una forma di ragionamento induttivo cioè che si basa solo sulla sull'esperienza progressa che non può escludere che in futuro le cose cambino all'improvviso ma non può neanche escludere come dicevo prima che la stessa esperienza non sia contraddittoria pur apparendo diversamente l'esperienza fenomenologica l'evidenza fenomenologica potrebbe attestare qualcosa che non è quello che appare il mondo potrebbe apparirci in un modo ed essere tutt'altro ed è ovviamente contraddittorio è contraddittorio che il mondo possa essere tutt'altro ma a noi appaia qualcosa di completamente diverso ma è un'ipotesi che solo nella struttura originaria si può mostrare addirittura come logicamente immediatamente falsa oltre che fenomenologicamente falsa in modo immediato potremmo dire ma è lì dove io fondo gli argomenti che sto proponendo che si può escludere questa situazione al di fuori no fino a prova contraria quindi il ragionamento che utilizza la motivazione dell'esperienza empirica per escludere non solo per il presente che già è un problema in realtà ma addirittura per il futuro che un numero possa avere fame è un ragionamento logicamente scorretto perché dalla premessa che adotta non segue la conclusione che ne vuole derivare da un punto di vista logico quello che ho detto è incontestabile è inoppugnabile per cui segue quanto detto ora un'altra un'altra riflessione un'altra cosa che vorrei si rendesse palese si rendesse evidente l'altro caso l'altra possibilità di concepire la logica è che la logica non sia un costrutto umano ma semmai che gli esseri umani scoprano via via forme di logica sempre più precise che però esistono di per sé cioè vi sarebbe una dimensione o piano astratto in cui la logica risiede questa ipotesi è altamente metafisica e altamente problematica perché non appare l'esistenza di questo piano lo si suppone sulla base del fatto che nella propria esperienza soggettiva che è quella in cui ognuno si trova e dalla quale nessuno fuoriesce perché anche l'esperienza del mondo ritenuto esterno dalla propria esperienza è un evento che appare nella propria esperienza quindi che ci sia un altro dalla propria esperienza è un problema di nuovo è un problema che rimane aperto al di fuori della struttura originaria ma che in essa viene radicalmente confutato viene confutato il solipsismo perché si mostra l'impossibilità che esista solo una coscienza solo una mente ma devono esistere infinite altre coscienze e menti oltre la propria non sto qui a spiegare il perché è l'argomento che severino ha proposto a tal riguardo ma fatto sta che nella struttura originaria si esclude perentoriamente e in modo incontrovertibile il solipsismo rimane quindi invece aperta al di fuori della struttura originaria la possibilità che non ci sia altro che il proprio orizzonte la propria esperienza personale e a nulla serve invocare il fatto che invece il mondo che appare nella propria esperienza sembra essere indipendente dalla propria volontà dalla propria mente dalle proprie aspettative perché nulla esclude che in realtà in quel mondo che appare come se fosse indipendente esterno oggettivo rispetto alla propria mente semplicemente non abbia quella parvenza e basta cosa infatti esclude che qualcosa possa avere la parvenza di essere altro da ciò che in realtà è ed essere appunto altro da ciò che invece sembra essere non può essere certamente quello che sembra cioè non può essere semplicemente perché il mondo sembra essere oggettivo ed esterno che si può concludere che è esterno e oggettivo e quindi esiste di per sé vi devono essere altre motivazioni non approfondisco questo argomento perché altrimenti mi dilungherei troppo quel che qui occorre rilevare che nella propria esperienza soggettiva della logica appaiono nozioni appaiono concetti appaiono idee che ne rappresentano l'esistenza anche al di fuori del proprio campo esperienziale ma di fatto non vi è l'evidenza che esista un piano logico è un'ipotesi di stampo nichilistico che fa capo sempre al divenire nichilistico perché solo in una realtà esterna nichilisticamente diveniente rispetto alla coscienza alla mente si può supporre che la logica o sia un costrutto umano ossia comunque qualcosa che attraverso determinate regole principi permette di determinare dei risultati con la applicazione dei suoi principi perché in una realtà così concepita come sovente accade nell'ambito analitico si presuppone che la logica o come costrutto umano o come realtà astratta a sé stante quindi non determinata dall'essere umano sia però utilizzata e applicata nei ragionamenti dagli esseri umani e nell'applicare la logica nei ragionamenti umani si starebbe assumendo che appunto quella logica c'è di è quando invece l'unica evidenza che si starebbe sperimentando una serie di determinazioni che vengono intese come concetti come formule come nozioni come passaggi logici come conclusioni di di una struttura sintattica di un argomento e così via ma non è evidente che al di là di queste determinazioni che a noi appaiono così intese ci sia una struttura logica totalizzante che esista di per sé come la seconda lettura che ho proposto della logica all'interno del nichilismo cioè di logica come esistenza di una struttura appunto logica in forma astratta non vi è evidenza quindi è un'ipotesi metafisica fintanto che non si mostra che esista questa logica in forma astratta per quanto riguarda l'ontologia severignana si può dire che la logica non è che sia negata è negata la lettura nichilistica secondo la quale la logica è uno strumento dialettico di cui si può servire l'essere umano per ragionare perché il ragionamento nella ontologia severignana si mostra come evento impossibile ma in che senso non che non sia possibile che appaia una sequenza di premesse che appaiono ordinate e congiunte tra loro in modo logicamente corretto e da cui segue una conclusione logicamente corretta e vera nel caso delle premesse vere ma nel senso che quell'articolazione di quel ragionamento non è sviluppata da una mente dalla riflessione di una mente perché la riflessione implica che accadono delle dinamiche i cui risultati prima non esistano non esistessero già e che quindi in quanto non esistenti creerebbero dinamiche nichilistiche l'idea che vi sia un intelletto una ragione che operano e che causano quindi i contenuti del ragionamento e della riflessione è un'idea nichilistica che può valere solo se la realtà fosse metafisicamente e ontologicamente diveniente altrimenti no ora siccome l'unica evidenza non è che esista una forma di intelletto che nichilisticamente interviene per produrre la riflessione e ragionamenti ma l'unica evidenza che esistono gli aspetti le determinazioni che noi diciamo intendiamo come pensieri concetti nozioni passaggi logici e così via segue segue che quanto detto non è non nega l'evidenza immediata di ciò che appare ma nega una certa lettura a critica di quello che appare nella nostra esperienza comunque fatto sta che la logica intesa in queste concezioni nichilistiche come qualcosa che esiste eternamente al di fuori del tempo forse addirittura al di fuori della realtà in forma astratta è qualcosa di altamente problematico intanto porre la logica al di fuori della realtà sarebbe qualcosa di contraddittorio perché se con realtà si intende tutto ciò che esiste la totalità di tutto ciò che è ciò che è a prescindere dal modo in cui è e dal modo in cui esiste la logica anche se intesa esistente astrettamente rientrerebbe nella realtà e sarebbe un insieme di essenti pur se ritenuti astratti e non nulla assoluto e non qualcosa che non esiste in alcun modo e non ha alcuna determinatezza e significato pertanto certamente se esistesse la logica in forma astratta farebbe parte della realtà ora che però questa logica esista va dimostrato in quei termini che esista astrattamente va dimostrato nell'ontologia severiniana la logica non è negata come dicevo è negata l'interpretazione e la lettura anichilistica della logica e della sua applicazione ma nell'ontologia severiniana la logica sarebbe già incorporata nella realtà cioè la struttura ontologica della realtà sarebbe già anche logica sarebbe già anche razionale e quindi la struttura semantica della realtà sarebbe già intrinsecamente logica il principio di opposizione infatti è il primo principio logico e ontologico che vi sia che permette tutti gli altri quindi è la condizione di possibilità primaria sia logica e ontologica di qualsiasi cosa e quindi lì nella struttura originaria non vi è il problema di affermare l'evidenza di questa logica perché il principio base della logica già sarebbe mostrato come necessario e se è mostrato come necessario quello e tuttavia richiede argomenti elenctrici per mostrarsi come incontrovertibile e d'altra parte è impossibile che non sia incontrovertibile segue a maggior ragione che almeno una logica base principale inclusa nella realtà sia evidente nella struttura originaria sia qualcosa di mostrato come necessario invece al di fuori della struttura originaria che la logica esista astrattamente è un problema è un problema è un'ipotesi metafisica e come tale deve essere giustificata certo è che come detto prima se la logica è un insieme di essenti e non nulla e di fatto è un insieme di essenti e non nulla allora non è possibile che sia indipendente dalla natura ontologica e metafisica della realtà in cui risiede per il semplice fatto che se per assurdo la realtà in cui risiedesse ospitasse contraddizioni ontologiche anche solo nel piano cosiddetto empirico distinto da quello astratto niente impedirebbe a una contraddizione empirica di invadere il campo dell'astratto cosa infatti potrebbe impedire a una contraddizione ontologica che andasse a violare la struttura determinata dell'essere dell'essente in quanto tale quindi a prescindere se è empirico astratto ideale o meno di invadere il campo dell'ideale dell'astratto eccetera certamente non l'errore categoriale non potrebbe l'errore categoriale arginare una contraddizione ontologica perché l'errore categoriale può valere solo se vi è una certa base ontologica il concetto di errore categoriale come qualsiasi nozione delle logiche nichilistiche analitiche eccetera può valere solo se la condizione ontologica della realtà lo permette non il contrario non è che la condizione ontologica della realtà è permessa e consentita se conforme a quanto stabilito prestabilito all'interno di certi ambiti e di certe logiche perché altrimenti è come se si stesse presupponendo che il fondamento ontologico della realtà è la logica formale è la filosofia analitica per come concepita non in quanto tale per come concepita da alcuni studiosi di logica e di filosofia che mostrano di avere le idee confuse a tal riguardo cioè di scambiare il rapporto tra l'ontologia e logica che certamente non può far sì che l'ontologia sia subordinata alla logica o per meglio dire non è certamente ciò che seguirebbe dalla loro concezione perché se da una parte loro ritengono che o la logica è astratta quindi è indipendente dalla realtà o è un costrutto creato nella realtà dal pensiero umano in entrambi i casi non si capisce come potrebbe essere fondamento della realtà e determinare influenzare la realtà diciamo avendo una funzione normativa che esclude quello che può che non può accadere e che dice cosa può accadere cosa può essere detto in modo corretto sulle cose e cosa non può essere detto ma come ho spiegato sia in questo video che in altre occasioni nel gruppo i nemici del destino queste nozioni non sono indipendenti da condizioni ontologiche ma invece ne sono profondamente determinate io concludo questo video quindi ricordando qual è l'errore in cui soprattutto Pavone continua a risiedere qui ovvero quello che avevo spiegato all'inizio del video il fatto di contrapporre a quello che sto dicendo il fatto che quello che io dico sarebbe sbagliato perché per valere dovrebbe adeguarsi a certe nozioni a certi concetti di logica formale e analitica e che siccome non lo fa quello che sto rilevando non è vero non è corretto e quindi non vi è alcun problema di quelli che io ho evidenziato mentre invece fino a prova contraria è proprio l'opposto cioè sono le obiezioni come queste qui che ho appena indicato a non essere valide perché stanno esse commettendo degli errori stanno esse difettando sul piano logico perché non dimostrano la verità della premessa da cui partono che è quella messa in discussione da quello che sto dicendo e quindi si trovano a sviluppare argomenti difettosi sottesi dalle loro obiezioni questo varrebbe anche se quanto da me detto fosse sbagliato perché anche se fosse sbagliata la mia tesi che possiamo chiamare qui a la tesi secondo cui certe nozioni almeno certe nozioni per valere richiedono determinate condizioni ontologiche e metafisiche e quindi sono determinate da certe premesse metafisiche fosse sbagliata si avrebbe comunque che la tesi opposta B quella di Pavone per esempio secondo cui invece quanto da me rilevato è sbagliato nel presupporre che la premessa messa in discussione dalla mia tesi A sia invece vera starebbe realizzando rispetto alla mia tesi in forma dialettica in un confronto dialettico con essa una petizione di principio perché anche se la mia tesi fosse sbagliata comunque è una fallacia logica il presupporre come vera la premessa che una certa tesi mette in discussione rispetto a un'altra rispetto a un'altra